Eccoci arrivati, località Sesis, guardate quanta neve c'è, giusto per rendersi conto. Quello che vedete sopra è il Monte Peralba, quello lassù è il Picchiadenis, sotto c'è, non so se riuscite a vedere, c'è Rifugio Calvi, Monte Chiadenis, questo è il Monte Navajust, lì sono le montagne, sono il Sierra, il gruppo del Sierra, sopra Sapada, questo è Cimalastroni, Passo del Mulo, quello che vedete laggiù è un mulo, tira come un mulo, e adesso laggiù sono i sorgenti del Piave, c'è il Rifugio, sono circa mezzo chilometro, 500 metri, giornata splendida, 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 un grande grazie, addio creatore, giornata stupenda, la camminata di oggi la metterei tra le top ten delle camminate che ho fatto in più di 40 anni, circa un metro e mezzo di neve, temperatura ottimale, neanche una nuvola, la neve eccezionale, battuta, infatti non abbiamo nemmeno usato le ciaspole, siamo venuti su con le scarpe da trail, e proprio condizioni ottimali, non possiamo far altro che ringraziare il creatore per una giornata del genere, e un saluto, Albert, chiudi con un tuo saluto, dai fai un saluto dai, Passo chiudo.